Buongiorno a tutti da questo servizio di oggi, un attimo più disteso e tranquillo perché in faccia alla notizia oggi vuole parlare del mare di Alghero. Ecco qui io sono davanti al mare ed è bellissimo, il mare è veramente qualcosa di incredibile per questa città, il potenziale, le cose che ha. Io vorrei fare un plauso anche all'amministrazione comunale, ringraziarla per il mare, ringraziare Alghero per la posizione scelta sull'emisfero, sul globo proprio perché il mare così bello che ho davanti è in voglia e auguro veramente una stagione turistica incredibile perché proprio è di quello che c'è bisogno. Una stagione turistica importante, cercare veramente di sfruttarla questa grande opportunità. Il mare è bellissimo e ringrazio appunto anche le amministrazioni precedenti per il mare, ecco perché ci è stato fatto sempre un bel lavoro. Però insomma ecco se vogliamo vedere qua io vedo, vedo, vedo qualcosa che magari vabbè si può migliorare, si può migliorare, però il mare è veramente qualcosa di incredibile. Vi salutiamo in faccia alla notizia, questo servizio qua diciamo un po' non di denuncia ma di presa di coscienza di quello che abbiamo. Grazie, 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 sei pronto? Ho finito adesso il servizio, si, dove? Ah ti devi sposare? E vai da Guido Beltrami, no? Wedding Planner, lui è bravo, si, invia Manzoni, si, si, dai Wedding Planner, Guido Beltrami, poi lo trovi anche su Facebook. Ciao!